È ancora sotto shock per quello che gli è capitato, anche se prova a mascherarlo bene dietro ai microfoni a cui ha deciso di raccontare l'aggressione subita. Diego, nome di fantasia, è stato picchiato e insultato senza motivo all'interno della discoteca Energy di Cesenatico, proprio la sera del suo compleanno e peraltro durante un evento dedicato alla comunità omosessuale dal titolo Tunga. Un contesto considerato protetto dove però il branco, formato da otto persone, ha deciso di fare una vera e propria spedizione punitiva, pescandolo dal mucchio e accanendosi su di lui mentre l'amico si era allontanato lasciandolo solo per un attimo. Soltanto l'intervento di una giovane, gambizzata poco prima, ha permesso che i pugni e le insolenze si fermassero. L'episodio purtroppo non è fra i più gravi e non è nemmeno isolato, come spiega il presidente dell'associazione Arcighei Rimini. Ce ne sono stati altri, sfortunatamente, sicuramente le cose ci preoccupano e devono restare attenzione. So che si sta discutendo finalmente una legge nazionale contro l'omotransfobia ed è assolutamente necessario che venga approvata perché, come si vede, c'è proprio un'emergenza in atto. C'è stata un'impennata di casi dell'ultimo anno che non si era mai visto. Spero che sia di aiuto affinché il legislatore si sproni a emanare leggi utili per la nostra difesa e affinché questi atti non avvengano più. Mi ha segnato emotivamente, non vivo più la vita come vivevo prima, alla luce del sole. Adesso ho sempre il timore che riaccada ciò che mi è accaduto quel sabato sera. Sono stati molti messaggi di conforto, anche Arcighei mi è stata molto vicina, mi ha supportato e credo in loro.